Benvenuti, Namaste. Oggi faremo insieme una pratica di meditazione che avrà come fine quello di instaurare una migliore comunicazione tra cuore e cervello. Il cuore invia costantemente dei messaggi intuitivi al nostro cervello che però nella maggior parte dei casi non percepiamo poiché questi messaggi vengono sovrascritti dall'ego. Ovvero da tutte quelle resistenze, condizionamenti e da quella che è la nostra visione apparente della realtà. E così adesso posizioni la mano destra all'altezza del cuore e la mano sinistra mantenendo indice e dito medio allungate, le altre dita chiuse. Con i polpastrelli a sfiorare lo spazio tra le sopracciglia.